E voglio spingerlo, questo è quello che succede perché la mia posizione non è solida. Allora, se adesso io faccio... Guardate il suo corpo. Vedete che tutto quello che io faccio rimbalza qua e lui si solidifica. Perché questa pressione solidifica il suo radicamento. Se io da questo stato passo a questo... La forza passa. Perché io divento solido. Questa mia solidità attraversa il suo corpo. Se lo faccio in rimbalzo... Questa forza comincia ad andare solidale. Se quando faccio questo... Mi chiudo, torno indietro di scappa. Questo cosa significa? Che se faccio una parte iniziale corretta e la forza passa e nel momento dell'impatto... Mi contango... Io rimbalzo. Se nel momento dell'impatto lascio uscire, va via lui. Il lasciare uscire è giusto. Quindi, quando io faccio questo... Quando io faccio questo... Questo è quello che vi ho insegnato come fine, che invece è una tensione che non serve assolutamente a niente, se no a far tornare la forza indietro. Io ho registro e vado un po' sulla schiena. E sulle spalle. Invece, quello che faccio alla fine, è questo. Stritto solo leggermente la mano, come se scrittassi il ventifricio, ma non contratto. Attivo. Vedete? Lascio uscire... E non faccio... Quindi, dovete abituarmi, eh? Vedete che non c'è confezione per me. Invece, con la faccio. Trovo, arrivo la... Allora, non sento soddisfazione. Invece, con la faccio. E... E vado da fronte a costa. Invece, più tenso questo, più devo non fare niente. Invece, poi si è forta l'uomo. Invece, poi si è forta l'uomo. Relace. Non contraetevi, con le vieti. E solo stanquezati. Solo stanquezati e blocate il fio. No, dai, dai.